La prima epistola di Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 1 Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio, e il fratello sostene alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io rendo del continuo grazie all'I Dio mio per voi della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola e in ogni conoscenza, essendo stata la testimonianza di Cristo confermata tra voi, in guisa che non difettate dal condono, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, il quale anche vi confermerà fino alla fine, onde siate irrepreensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo. Fedele è lì Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo figliolo Gesù Cristo, nostro Signore. Ora, fratelli, io vi esorto per il nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni fra voi, ma a stare perfettamente uniti in una medesima mente e in un medesimo sentire. Perché, fratelli miei, m'è stato riferito intorno a voi da quelli di casa Chloe che vi sono fra voi delle contese. Voglio dire che ciascuno di voi dice, io sono di Paolo e io di Apollo e io di Cefa e io di Cristo. Cristo è egli diviso? Paolo, è egli stato crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Io ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi salvo Crispo e Gaio, così che nessuno può dire che foste battezzati nel mio nome. Ho battezzato anche la famiglia di Stefana, del resto non so se ho battezzato alcun altro. Perché Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non con sapienza di parola affinché la croce di Cristo non sia resa vana, poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvazione è la potenza di Dio, poiché gli è scritto, io farò perire la sapienza dei savi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo secolo? Il Dio non ha egli resa pazza la sapienza di questo mondo? Poiché, visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Poiché i giudei chiedono dei miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia. Ma per quelli i quali sono chiamati tanto giudei quanto greci predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose sprezzate, anzi, le cose che non sono per ridurre al niente le cose che sono, affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio. E a Lui voi dovete di essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione affinché, come scritto, chi si gloria si glori nel Signore. Capitolo 2 Quante a me, fratelli, quando venni a voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, forché Gesù Cristo è Lui crocifisso. Ed io sono stato presso di voi con debolezza e con timore e con grande tremore, e la mia parola e la mia predicazione non hanno consistito in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Non di meno, fra quelli che sono maturi, noi esponiamo una sapienza. Una sapienza però non di questo secolo né dei principi di questo secolo che stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio, misteriosa ed occulta, che Dio aveva innanzi secoli predestinata a nostra gloria e che nessuno dei principi di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come è scritto, le cose che occhio non ha vedute e orecchio non ha udite e che non sono salite in cuore d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Ma noi Dio le ha rivelate per mezzo dello spirito, perché lo spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. Infatti, chi fra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? E così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Ora noi abbiamo ricevuto non lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ora, l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio perché gli sono pazia e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente, ma l'uomo spirituale giudica di ogni cosa e degli stesso non è giudicato da alcuno. Poiché chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo ammaestrare, ma noi abbiamo la mente di Cristo. Capitolo 3 Ed io, fratelli, non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate ancora da tanto. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché ve tra voi gelosia e contesa, non siete voi carnali e non camminate voi secondo l'uomo? Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non siete voi uomini carnali? Che cos'è dunque Apollo e che cos'è Paolo? Sono dei ministri per mezzo dei quali voi avete creduto, e lo sono secondo che il Signore ha dato a ciascuno di loro. Io ho piantato, Apollo annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere, tal che né colui che pianta né colui che annaffia sono alcunché, ma è Dio che fa crescere è tutto. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Poiché noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Io, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come Savio Architetto, ho posto il fondamento, altri vi edifica sopra. Ma va di ciascuno come egli vi edifica sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno edifica su questo fondamento oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà, poiché quel giorno ha da apparire quale fuoco, e il fuoco farà la prova di quello che sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificata sul fondamento sussiste, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno. Ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio, e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo, e questo Tempio siete voi. Nessuno si inganni. Se qualcuno fra voi si immagina di essere Savio in questo secolo, diventi pazzo affinché diventi Savio, perché la sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio. Infatti è scritto, egli prende i savi nella loro astuzia, e altrove il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. Nessuno dunque si glori degli uomini, perché ogni cosa è vostra, è Paolo, è Apollo, e Cefa, è il mondo, è la vita, è la morte, è le cose presenti, è le cose future, tutto è vostro, e voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Capitolo 4 Così ci stimi ognuno come dei ministri di Cristo e degli amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quello che si richiede dagli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. A me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi non mi giudico neppure da me stesso, poiché non ho coscienza di colpa alcuna. Non per questo però sono giustificato, ma colui che mi giudica è il Signore. Cosicché non giudicate di nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori, e allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Ora, fratelli, queste cose le ho per amore vostro, applicate a me stesso e ad Apollo, onde per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quello che è scritto, affinché non vi gonfiate di orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Infatti, chi ti distingue dagli altri e che hai tu che non l'abbia ricevuto? E seppur l'hai ricevuto, perché ti glori come se tu non lo avessi ricevuto? Già siete saziati, già siete arricchiti, senza di noi siete giunti a regnare. E fosse pure che voi foste giunti a regnare, affinché anche noi potessimo regnare con voi. Poiché io stimo che il Dio abbia messi in mostra a noi, gli apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo diventati uno spettacolo al mondo e agli angeli e agli uomini. Noi siamo pazzi a cagione di Cristo, ma voi siete savi in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi siete forti. Voi siete gloriosi, ma noi siamo sprezzati. Fino a questa stessa ora noi abbiamo e fame e sete. Noi siamo ignudi e siamo schiaffeggiati, e non abbiamo ferma stanza, e ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani. Ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, diffamati esortiamo, siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Io vi scrivo queste cose non per farvi vergogna, ma per ammonirvi come miei cari figlioli, poiché quando anche aveste diecimila pedagoghi in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Io vi esorto dunque, siate miei imitatori. Appunto per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio figliuolo diletto e fedele nel Signore. Egli vi ricorderà quali siano le mie vie in Cristo Gesù, come io insegni dappertutto in ogni chiesa. Ora, alcuni si sono gonfiati come se io non dovessi recarmi da voi, ma se il Signore vorrà, mi recherò presto da voi, e conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati, perché il Regno di Dio non consiste in parlare, ma in potenza. Che volete? Che venga da voi con la verga o con amore e con spirito di manso etudine? Capitolo 5 Si ode addirittura affermare che v'è tra voi fornicazione, e tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre. E siete gonfi, e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, assente di persona, ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme adunati voi e lo Spirito mio, con la potestà del Signor nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana, a perdizione della carne, onde lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Il vostro vantarvi non è buono. Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito affinché siate una nuova pasta come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Vi ho scritto nella mia epistola di non mischiarvi coi fornicatori, non del tutto però coi fornicatori di questo mondo, o con gli avari e i rapaci o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma quello che ho scritto è di non mischiarvi con alcuno che, chiamandosi fratello, sia un fornicatore o un avaro o un idolatra o un oltraggiatore o un ubriacone o un rapace. Con un tale non dovete neppure mangiare, poiché ho io forse da giudicare quelli di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro, quelli di fuori li giudica il Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Capitolo 6 Ardisce alcuno di voi, quando ha una lite con un altro, chiamarlo in giudizio dinnanzi agli ingiusti anziché dinnanzi ai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita? Quando dunque avete da giudicare di cose di questa vita, costituitene giudici quelli che sono i meno stimati della Chiesa. Io dico questo per farvi vergogna, così non vegli tra voi neppure un sabio che sia capace di pronunziare un giudizio tra un fratello e l'altro? Ma il fratello processa il fratello e lo fa dinnanzi agli infedeli. Certo è già in ogni modo un vostro difetto l'avere fra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Invece siete voi che fate torto e danno, e ciò a dei fratelli. Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci, erederanno il regno di Dio. E tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito dell'Iddio nostro. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre, e il ventre è per le vivande, ma il Dio distruggerà e queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo. E Dio come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche voi mediante la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Toglierò io dunque le membra di Cristo per farne membra di una meretrice? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce ad una meretrice è un corpo solo con lei? Poiché, dice Dio, i due diverranno una sola carne, ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati apprezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Capitolo 7 Ora, quanto è alle cose delle quali mi avete scritto, è bene per l'uomo di non toccare donna, ma per evitare le fornicazioni ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie quello che le è dovuto e lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. Non vi pirivate l'uno dell'altro se non di comune consenso per un tempo a fine di darvi alla preghiera, e poi ritornate assieme onde Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Ma questo dico per concessione, non per comando, perché io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, l'uno in un modo, l'altro in un altro. Ai celibi e alle vedove però dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io. Ma se non si contengono, sposino, perché è meglio sposarsi che ardere. Ma ai coniugi ordino, non io, ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, e se mai si separa rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito, e che il marito non lasci la moglie. Ma agli altri, dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitare con lui, non la lasci. E la donna che ha un marito non credente, se egli consente ad abitare con lei, non lasci il marito. Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figlioli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. Però se il non credente si separa, si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono vincolati, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Perché, o moglie, che sai tu se salverai il marito? Ovvero tu, marito, che sai tu se salverai la moglie? Del resto ciascuno seguiti a vivere nella condizione assegnatagli dal Signore e nella quale si trovava quando il Dio lo chiamò. E così ordino in tutte le chiese. È stato alcuno chiamato essendo circonciso? Non faccia sparire la sua circoncisione. È stato alcuno chiamato essendo incirconciso? Non si faccia circoncidere. La circoncisione è nulla e la incirconcisione è nulla, ma l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto. Ognuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Se tu stato chiamato essendo schiavo, non curartene, ma se puoi divenire libero è meglio valerti dell'opportunità. Poiché colui che è stato chiamato nel Signore essendo schiavo è un affrancato del Signore. Parimenti colui che è stato chiamato essendo libero è schiavo di Cristo. Voi siete stati riscattati a prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Fratelli, ognuno rimanga dinanzi a Dio nella condizione nella quale si trovava quando fu chiamato. Ora, quanto alle vergini, io non ho comandamento dal Signore, ma do il mio parere come avendo ricevuto dal Signore la grazia di essere fedele. Io stimo dunque che a motivo della imminente distretta sia bene per loro di restare come sono, poiché per l'uomo in genere è bene di starsene così. Sei tu legato ad una moglie? Non cercare di esserne sciolto. Sei tu sciolto da moglie? Non cercare moglie. Se però prendi moglie, non pecchi. E se una vergine si marita, non pecca. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne e io vorrei risparmiarvela. Ma questo io dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato, tal che dora innanzi anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero, e quelli che piangono come se non piangessero, e quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, e quelli che comprano come se non possedessero, e quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. Ora io vorrei che foste senza sollecitudine. Chi non è ammogliato ha cura delle cose del Signore, del come potrebbe piacere al Signore, ma colui che è ammogliato ha cura delle cose del mondo, del come potrebbe piacere alla moglie. E v'è anche una differenza tra la donna maritata e la Vergine. La non maritata ha cura delle cose del Signore, a fin d'essere santa di corpo e di spirito. Ma la maritata ha cura delle cose del mondo, del come potrebbe piacere al marito. E questo dico per l'utile vostro proprio, non per tendervi un laccio, ma in vista di ciò che è decoroso e affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazione. Ma se alcuno crede fare cosa indecorosa verso la propria figliuola nubile, se la passa il fiore dell'età, e se così bisogna fare, faccia quello che vuole. Egli non pecca, la dia a marito. Ma chi sta fermo in cuore suo e non è stretto da necessità, ma è padrone della sua volontà e ha determinato in cuore suo di serbare Vergine la sua figliuola, fa bene. Perciò chi dà la sua figliuola a marito fa bene e chi non la dà a marito fa meglio. La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di maritarsi a chi vuole, pur che sia nel Signore. Non di meno ella è più felice a parer mio, se rimane com'è, e credo d'avere anch'io lo spirito di Dio. Capitolo 8 Quanto alle carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma la carità edifica. Se alcuno si pensa di conoscere qualcosa, egli non conosce ancora come si deve conoscere. Ma se alcuno ama Dio, esso è conosciuto da Lui. Quanto dunque al mangiare delle carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo, e che non c'è alcun Dio fuori di uno solo. Poiché sebbene vi siano dei cosiddetti dei tanto in cielo che in terra, come infatti ci sono molti dei e molti signori, non di meno per noi c'è un Dio solo, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi per la gloria sua, e un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale siamo noi. Ma non in tutti è la conoscenza, anzi, alcuni abituati finora all'idolo mangiano di quelle carni come essendo cosa sacrificata a un idolo, e la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Ora, non è un cibo che ci farà graditi a Dio, se non mangiamo non abbiamo nulla di meno, e se mangiamo non abbiamo nulla di più. Ma badate che questo vostro diritto non diventi un intoppo per i deboli, perché se alcuno vede te che hai conoscenza seduto a tavola in un tempio di idoli, la sua coscienza, se egli è debole, non sarà ella incoraggiata a mangiare delle carni sacrificate agli idoli, e così per la tua conoscenza perisce il debole, il fratello per il quale Cristo è morto. Ora, peccando in tale modo contro i fratelli e ferendo la loro coscienza che è debole, voi peccate contro Cristo. Perciò, se un cibo scandalizza il mio fratello, io non mangerò mai più carne per non scandalizzare il mio fratello. Capitolo 9 Non sono io libero? Non sono io apostolo? Non ho io veduto Gesù il Signore nostro? Non siete voi l'opera mia nel Signore? Se per altri non sono apostolo, lo sono almeno per voi, perché il suggello del mio apostolato siete voi nel Signore. Questa è la mia difesa di fronte a quelli che mi sottopongono ad inchiesta. Non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno con noi una moglie, sorella, in fede, siccome fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa? O siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare? Chi è mai che fa il soldato a sue proprie spese? Chi è che pianta una vigna e non ne mangia il frutto? E chi è che pasce un gregge e non si ciba del latte del gregge? Dico io queste cose secondo l'uomo? Non le dice anche la legge? Difatti nella legge di Mosè è scritto non mettere la musoliera al bue che trebbia il grano. Forse che Dio si dà pensiero dei vuoi? O non lo dice Egli così proprio per noi? Certo, per noi fu scritto così perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia il grano deve trebbiarlo con la speranza d'averne la sua parte. Se abbiamo seminato per voi i beni spirituali, e Egli granché se miettiamo i vostri beni materiali? Se altri hanno questo diritto su voi non l'abbiamo noi molto più? Ma noi non abbiamo fatto uso di questo diritto, anzi sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Non sapete voi che quelli i quali fanno il servizio sacro mangiano di quello che è offerto nel Tempio, e che coloro i quali attendono all'altare hanno parte all'altare? Così ancora il Signore ha ordinato che coloro i quali annunziano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Io però non ho fatto uso di alcuno di questi diritti, e non ho scritto questo perché si faccia così a mio riguardo, poiché preferirei morire anziché vedere qualcuno rendere vano il mio vanto, perché se io evangelizzo non ho da trarne vanto, poiché necessità me ne è imposta, e guai a me se non evangelizzo. Se lo faccio volenterosamente ne ho ricompensa, ma se non lo faccio volenterosamente è pur sempre un'amministrazione che mi è affidata. Qual è dunque la mia ricompensa? Questa, che annunziando l'Evangelo io offra l'Evangelo gratuitamente senza valermi del mio diritto nell'Evangelo, poiché pur essendo libero da tutti mi sono fatto servo a tutti per guadagnarne il maggiore numero, e coi giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno sotto la legge, benché io stesso non sono sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, benché io non sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli, mi faccio ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. E tutto fo' a motivo dell'Evangelo al fine di esserne partecipe anche io. Non sapete voi che coloro i quali corrono nello stadio corrono ben tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Io quindi corro, ma non in modo incerto. Lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù che talora dopo avere predicato agli altri io stesso non sia riprovato. Capitolo 10. Perché, fratelli, non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare e tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. E tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale e tutti bevero la stessa bevanda spirituale perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva e la roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro il Dio non si compiacque poiché furono atterrati nel deserto. Ora queste cose avvennero per servire di esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro ne furono bramosi, onde non diventiate idolatri come alcuni di loro secondo che è scritto il popolo si sedette per mangiare e per bere poi salsò per divertirsi. Onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo ventitremila. Onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. E non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro per servire di esempio e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Perciò chi si pensa di stare ritto guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi accolti che non sia stata umana ora il Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne onde la possiate sopportare. Perciò cari miei fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti giudicate voi di quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è egli la comunione col sangue di Cristo. Il pane che noi rompiamo non è egli la comunione col corpo di Cristo. Siccome è un unico pane noi che siamo molti siamo un corpo unico perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano i sacrifici non hanno essi comunione con l'altare? Che dico io dunque? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualche cosa? Che un idolo sia qualche cosa? Tutt'altro. Io dico che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo noi provocare il Signore a Gerossia? Siamo noi più forti di Lui? Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi l'altrui. Mangiate di tutto quello che si vende al macello senza fare inchieste per motivo di coscienza, perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. Se qualcuno dei non credenti vi invita e voi volete andarci, mangiate di tutto quello che vi viene posto davanti senza fare inchieste per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dice questa è cosa di sacrifici, non ne mangiate per riguardo a colui che vi ha avvertito e per riguardo alla coscienza. Alla coscienza dico non tua, ma di quell'altro. Infatti perché la mia libertà sarebbe giudicata dalla coscienza giudicata dalla coscienza altrui? E se io mangio di una cosa con rendimento di grazie, perché sarei biasimato per quello di cui io rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcuna altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Non siate d'intoppo né ai giudei, né ai greci, né alla chiesa di Dio. Sì, come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, non cercando l'utile mio proprio, ma quello dei molti, affinché siano salvati. Capitolo undici. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Ora io vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa, e ritenete i miei insegnamenti quali ve li ho trasmessi. Ma io voglio che sappiate che il capo d'ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo, e che il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo, fa disonore al suo capo perché è lo stesso che se fosse rasa. Perché se la donna non si mette il velo, si faccia anche tagliare i capelli. Ma se è cosa vergognosa per una donna il farsi tagliare i capelli o radere il capo, si metta un velo. Poiché quanto all'uomo egli non deve velarsi il capo essendo immagine e gloria di Dio. Ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo. E l'uomo non fu creato a motivo della donna, ma la donna a motivo dell'uomo. Perciò la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. D'altronde nel Signore né la donna è senza l'uomo né l'uomo senza la donna, poiché siccome la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna ed ogni cosa è da Dio. Giudicatene voi stessi, è egli conveniente che una donna preghi Dio senza essere velata. La natura stessa non vi insegna ella che se l'uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore, mentre se una donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, perché la chioma le è data a guisa di velo. Se poi ad alcuno piace di essere contenzioso, noi non abbiamo tale usanza e neppure le chiese di Dio. Mentre vi do queste istruzioni, io non vi lodo del fatto che vi radunate non per il meglio ma per il peggio, poiché prima di tutto sento che quando vi radunate in assemblea ci sono fra voi delle divisioni, e in parte ci credo, perché bisogna che ci siano fra voi anche delle sette, affinché quelli che sono approvati siano manifestati fra voi. Quando poi vi radunate assieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena, e mentre l'uno ha fame, l'altro è ubriaco. Non avete voi delle case per mangiare e bere? o disprezzate voi la chiesa di Dio e fate vergogna a quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Vi loderò io? In questo io non vi lodo, poiché ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte che fu tradito prese del pane, e dopo avere rese grazie, lo ruppe e disse, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Parimente, dopo avere cenato, prese anche il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo ed il sangue del Signore. Ora provi l'uomo se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio su se stesso se non discerne il corpo del Signore. Per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo. Quando adunque, fratelli miei, vi adunate per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Se qualcuno ha fame, mangi a casa, onde non vi aduniate per attirare su voi un giudizio. Le altre cose regolerò quando verrò. Capitolo 12 Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Voi sapete che quando eravate gentili, eravate trascinati dietro agli idoli muti, secondo che vi si menava. Perciò vi fa sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Ora, vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. E vi è diversità di ministeri, ma non v'è che un medesimo Signore. E vi è varietà di operazioni, ma non v'è che un medesimo Iddio il quale opera tutte le cose in tutti. Ora, a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utile comune. Infatti, a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, ad un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, ad un altro fede mediante il medesimo Spirito, ad un altro doni di guarigioni per mezzo del medesimo Spirito, ad un altro potenza di operare miracoli, ad un altro profezia, ad un altro il discernimento degli spiriti, ad un altro diversità di lingue, ad un altro la interpretazione delle lingue, ma tutte queste cose le opera quell'uno e medesimo Spirito, distribuendo i Suoi doni a ciascuno, in particolare come Egli vuole. Poiché, siccome il corpo è uno, ed ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così ancora è di Cristo. Infatti, noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico Spirito per formare un unico corpo, e giudei, e greci, e schiavi, e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un unico Spirito. E infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse, siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. E se l'orecchio dicesse, siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora il Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. E se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ma ora ci sono molte membra, ma c'è un unico corpo. E l'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te, né il capo può dire ai piedi, non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo che paiono essere più deboli sono invece necessarie, e quelle parti del corpo che noi stimiamo essere le meno onorevoli, noi le circondiamo di maggiore onore. E le parti nostre meno decorose sono fatte segno di maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno. Ma Dio ha costruito il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava, affinché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui, e se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso ciascuno per parte sua. E Dio ha costituito nella Chiesa primariamente degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi i miracoli, poi i doni di guarigione, le assistenze, i doni di governo, la diversità delle lingue. Tutti sono essi apostoli? Sono forse tutti i profeti? sono forse tutti i dottori? Fanno tutti dei miracoli? Tutti hanno essi i doni delle guarigioni? Parlano tutti in altre lingue? Interpretano tutti? Ma desiderate ardentemente i doni maggiori? E ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. Capitolo tredici Quando io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità, divento un rame risuonante o uno squillante cembalo. E quando avessi il dono di profezia, e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, se non ho carità, non sono nulla. E quando distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, e quando dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho carità, c'ho niente mi giova. La carità è paziente, è benigna. La carità non invidia. La carità non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si nasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. La carità non verrà mai meno, quanto alle profezie esse verranno abolite, quanto alle lingue esse cesseranno, quanto alla conoscenza essa verrà abolita, poiché noi conosciamo in parte ed in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà avvenuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Quando ero fanciullo, parlavo da fanciullo, pensavo da fanciullo, ragionavo da fanciullo, ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da fanciullo. Poiché ora vediamo come in uno specchio in modo scuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno come anche sono stato appieno conosciuto. Ora dunque queste tre cose durano, fede, speranza, carità, ma la più grande di esse è la carità. Capitolo 14 Procacciate la carità non lasciando però di ricercare i doni spirituali e principalmente il dono di profezia. Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, poiché nessuno lo intende, ma in ispirito proferisce misteri. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Ora io ben vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Infatti, fratelli, se io venissi a voi parlando in altre lingue, che vi gioverei se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione o qualche conoscenza o qualche profezia o qualche insegnamento, perfino le cose inanimate che danno suono, quali il flauto o la cetra, se non danno distinzione di suoni, come si conoscerà quello che è suonato col flauto o con la cetra? E se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Così anche voi, se per il vostro dono di lingue non proferite un parlare intelligibile, come si capirà quello che dite? Parlerete in aria. Ci sono nel mondo tante e tante specie di parlari, e nessun parlare è senza significato. Se quindi io non intendo il significato del parlare, sarò un barbaro per chi parla, e chi parla sarà un barbaro per me. Così anche voi, poiché siete bramosi dei doni spirituali, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Perciò chi parla in altra lingua, preghi di poter interpretare, poiché se prego in un'altra lingua, ben prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa. Che dunque? Io pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza. altrimenti, se tu benedici Dio soltanto con lo spirito, come potrà colui che occupa il posto del semplice uditore dire Amen al tuo rendimento di grazie, poiché non sa quello che tu dici? Quanto a te, certo, tu fai un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Io ringrazio Dio, che parlo in altre lingue più di tutti voi, ma nella Chiesa preferisco dire cinque parole intelligibili per istruire anche gli altri che dirne diecimila in altra lingua. Fratelli, non siate fanciulli per senno. Siate pure bambini quanto a malizia, ma quanto a senno siate uomini fatti. Egli è scritto nella legge, io parlerò a questo popolo per mezzo di gente di un'altra lingua e per mezzo di labbra straniere, e neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Pertanto, le lingue servono di segno non per i credenti, ma per i non credenti. La profezia, invece, serve di segno non per i non credenti, ma per i credenti. Quando dunque tutta la Chiesa si raduna assieme, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli estranei o dei non credenti, non diranno essi che siete pazzi? Ma se tutti profetizzano ed entra qualche non credente o qualche estraneo, egli è convinto da tutti, è scrutato da tutti, i segreti del suo cuore sono palesati, e così, gettandosi giù con la faccia a terra, adorerà Dio, proclamando che Dio è veramente fra voi. Che dunque, fratelli, quando vi radunate avendo ciascuno di voi un salmo, o un insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o una interpretazione, facciasi ogni cosa per l'edificazione. Se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre al più a farlo, e l'uno dopo l'altro, e uno interpreti. E se non vecchi interpreti, si taccia nella Chiesa e parlino a se stessi e a Dio. Parlino due o tre profeti, e gli altri giudichino. E se una rivelazione è data a uno di quelli che stanno seduti, il precedente si taccia. Poiché tutti ad uno ad uno potete profetare, affinché tutti imparino e tutti siano consolati. E gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Come si fa in tutte le chiese dei santi, tacciansi le donne nelle assemblee, perché non è loro permesso di parlare, ma debbono stare soggette, come dice anche la legge. E se vogliono imparare qualcosa, interroghino i loro mariti a casa, perché è cosa indecorosa per una donna parlare in assemblea. La parola di Dio è forse proceduta da voi? O è d'essa forse pervenuta a voi soli? Se qualcuno si stima essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore. E se qualcuno lo vuole ignorare, lo ignori. Pertanto, fratelli, bramate il profetare e non impedite il parlare in altre lingue, ma ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine. Capitolo 15 Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che v'ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, e mediante il quale siete salvati, seppure lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché io v'ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici. Poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli, e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di loro tutti, non già io, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, o siano loro, così noi predichiamo, e così voi avete creduto. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni fra voi dicono che non v'è resurrezione dei morti? Ma se non v'è resurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, vana dunque, è la nostra predicazione, e vana pure la vostra fede. E noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, perché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che dormono in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormano. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta, poi verrà la fine, quando Egli avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza. Poiché bisogna che Egli regni finché abbia messo tutti i Suoi nemici sotto i Suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti, il Dio ha posto ogni cosa sotto i piedi di esso. Ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato. E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa affinché Dio sia tutto in tutti. Altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono essi battezzati per loro? E perché anche noi siamo ogni momento in pericolo? Ogni giorno sono esposto alla morte. Sì, fratelli, com'è vero che io mi glorio di voi in Cristo Gesù nostro Signore. Se soltanto per fini umani ho lottato con le fiere ad Efeso, che utile ne ho io. Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Svegliatevi a vita di giustizia e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio, lo dico a vostra vergogna. Ma qualcuno dirà, come risuscitano i morti e con quale corpo tornano essi? Insensato, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a quello che tu semini, non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo, come capita, di frumento o di qualche altro seme. E Dio gli dà un corpo secondo che l'ha stabilito, e ad ogni seme il proprio corpo. Non ogni carne è la stessa carne, ma altra è la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, altra quella degli uccelli, altra quella dei pesci. Ci sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri, ma altra è la gloria dei celesti e altra quella dei terrestri. Altra è la gloria del sole, altra la gloria della luna e altra la gloria delle stelle, perché un astro è differente dall'altro in gloria. Così pure della risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Così anche sta scritto, il primo uomo Adamo fu fatto anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terreno, il secondo uomo è dal cielo. Quale è il terreno, tali sono anche i terreni. Quale è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terreno, così porteremo anche l'immagine del celeste. Ora questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono eredare il regno di Dio, né la corruzione può eredare la incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un battere d'occhio al suono dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta. La morte è stata sommersa nella vittoria? O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Capitolo 16 Ora, quanto alla colletta per i santi, come ho ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi metta da parte a casa quello che potrà secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. E quando sarò giunto, quelli che avrete approvati io li manderò con lettera a portare la vostra liberalità a Gerusalemme, e se converrà che ci vada anche io, essi verranno con me. Io poi mi recherò da voi quando sarò passato per la Macedonia, perché passerò per la Macedonia, ma da voi forse mi fermerò alquanto, ovvero anche passerò l'inverno, affinché voi mi facciate proseguire per dove mi recherò. Perché questa volta io non voglio vedervi di passaggio, poiché spero di fermarmi qualche tempo da voi, se il Signore lo permette. Ma mi fermerò in Efeso fino alla Pentecoste, perché una larga porta mi è qui aperta ad un lavoro efficace, e vi sono molti avversari. Ora, se viene Timoteo, guardate che stia fra voi senza timore, poiché egli lavora nell'opera del Signore come faccio anche io. Nessuno dunque lo sprezi, ma fatelo proseguire in pace affinché venga da me, poiché io l'aspetto coi fratelli. Quanto al fratello Apollo, io l'ho molto esortato a recarsi da voi coi fratelli, ma egli assolutamente non ha avuto volontà di farlo adesso, andrà però quando ne avrà l'opportunità. Vegliate, state fermi nella fede, portatevi virilmente, fortificatevi. Tutte le cose vostre siano fatte con carità. Ora, fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana. Sapete che è la primizia della caia e che si è dedicata al servizio dei santi. Io vesorto a sottomettervi anche voi a cotali persone e a chiunque lavora e fatica nell'opera comune. E io mi rallegro della venuta di Stefana, di Fortunato e d'Acaico, perché essi hanno riempito il vuoto prodotto dalla vostra assenza, poiché hanno ricreato lo spirito mio e il vostro, sappiate apprezzare cotali persone. Le chiese dell'Asia vi salutano. Aquila e Priscilla con la chiesa che in casa loro vi salutano molto nel Signore. Tutti i fratelli vi salutano. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Il saluto di mia propria mano, di me Paolo. Se qualcuno non ama il Signore sia anatema, maran ata. La grazia del Signore Gesù sia con voi. L'amore mio è con tutti voi in Cristo Gesù.